Benvenuti a Mappamundi. Oggi parliamo di America, il volume di Limes, Tempesta sull'America. Ne parliamo con Dario Fabri in studio qui con me, e Lucio Caraccio, direttore di Limes in collegamento. Ciao Lucio. Buongiorno a tutti. Partiamo subito con Lucio questo volume, Tempesta sull'America, le convulsioni del numero uno. Lucio, perché? Lo abbiamo visto direi dalla cronaca, anche dalla cronaca di queste ore, quando finalmente abbiamo avuto l'elezione formale del Presidente degli Stati Uniti da parte del collegio elettorale formato dai rappresentanti dei vari stati. È stato un parto molto lungo e difficile che peraltro non si è ancora concluso, sia in attesa della cerimonia virtuale del 20 gennaio, insediamento del signor Biden a posto di Trump, sia anche perché, come cerchiamo di mostrare in questo volume, alla radice di questa tempesta non ci sono solo diatribe politiche o dispute elettorali, ma qualcosa di molto più profondo, cioè sono movimenti che riguardano la società americana nel suo complesso e che mettono in causa la sua identità, i legami che tengono insieme questa grande nazione, il numero uno del mondo. E quando una grande nazione, quando il numero uno del mondo soffre di questo genere di crisi, è bene stare attenti perché non si tratta di fenomeni esotici, ma che ci toccano molto da vicini, specialmente noi italiani, che della sfera di influenza dell'impero americano siamo parte, parte anche piuttosto rilevante. Allora io intanto voglio mostrare la carta appunto delle elezioni presidenziali americane, il rosso è Donald Trump, i repubblicani, il blu invece è il colore dei democratici ed è stato finalmente, insomma i grandi elettori si sono pronunciati e quindi Joe Biden ha vinto con 306 grandi elettori, ne erano necessari 270 per vincere. I stati chiave, lo vedete in blu, sono quelli del Midwest, cioè il Wisconsin, il Michigan, la Pennsylvania, anche la Georgia, un'eccezione diciamo nel sud, senza dimenticare poi invece l'Arizona. Però ecco Dario, tu in questo volume, il volume di IMES, vi ricordo che è appunto in edicola e anche online, tra le altre cose scrivi una scheda su questo un po' grottesco sistema elettorale, forse antiquato, che però ha una sua logica e che Trump ha cercato di sfruttare a suo vantaggio. Sì, ma sai il sistema elettorale americano è un sistema sviluppato dalla fine del Settecento e poi mantenuto così fino ai giorni nostri ed è stato pensato in questa maniera per un senso strategico, cioè non è un errore, non è una stortura. Di che cosa stiamo parlando? Anzitutto l'elezione presidenziale in America non è diretta, sebbene viene raccontata come tale, cioè gli elettori non votano direttamente il Presidente, ma come raccontava Lucio Caracciolo, votano i grandi elettori, cioè scelgono coloro che dovranno rappresentarli in forma più o meno clandestina. Quest'anno ha avuto più clamore del solito, ma perché c'era Trump di mezzo, ma mediamente l'elezione, quella che è avvenuta il 14 dicembre, quest'anno attraverso i grandi elettori avviene nel silenzio più assoluto perché si fa finta, un qualcuno ci crede, in media soprattutto, che l'elezione sia diretta, quando invece è indiretta e poi si svolge un giorno feriale, cioè nel martedì e poi si può svolgere attraverso il voto postale che è stato presentato in queste settimane come un grande prodigio della democrazia, ma è un voto che comunque presenta una promiscuità che ad esempio in Italia non sarebbe tollerata, cioè la possibilità di votare 5, 6, 2, 4 persone tutte insieme, di un nucleo familiare, amici che si trovano per la strada e scelgono di votare insieme, quindi dimenticando quella che è la segretezza del voto. Aggiungiamo poi a questo il fatto che essenzialmente le elezioni si svolgono soprattutto a causa del voto postale in un arco di tempo molto lungo, i primi voti sono arrivati alla fine di settembre, gli ultimi sono arrivati qualche giorno dopo l'inizio di novembre, voi capite che nell'arco di oltre un mese e mezzo viene persa, quella fotografia che deve essere istantanea è legata ad un giorno soltanto di tutte le elezioni, cioè il popolo come si diceva qualche decennio fa, l'elettorato come si usa dire più oggi, si reca le urne o si recava visto il voto postale nel medesimo giorno affinché l'impressione che ha della propria collettività sia identica in senso cronologico. Se insomma iniziamo a votare agli inizi di settembre e finiamo a novembre, nel frattempo può succedere qualsiasi cosa, nuove guerre, specialmente nel numero 1 del pianeta o chissà quali crisi economiche o catastrofi, è chiaro che la percezione che hanno gli elettori è molto diversa da una settimana all'altra, tutto questo rende le elezioni statunitense una sorta di grande fixio, di grande finzione che ha delle ragioni strategiche, dicevamo serva ad allontanare, serviva, questa era l'idea dei padri fondatori ad allontanare gli americani dalle passioni della politica, rendendole così bizantine e complesse le elezioni, questo doveva servire per non farli appassionare troppo. È stato aggiunto anche un ulteriore diaframma che è quello di doversi registrare per votare, per cui non ci si può semplicemente recare le urne o votare via posa, bisogna dichiarare la propria intenzione, un altro diaframma dicevamo, affinché la politica fosse meno importante. Lucio Caracci lo dice sempre, gli statuti sono un paese impolitico ed è vero, sono stati pensati per questo, affinché la traiettoria strategica della nazione non subisse l'inquinamento delle passioni, dell'organizzazione politica in quanto tale, della democrazia. Il problema qual è? Che poi in maniera più o meno inaspettata gli americani hanno iniziato a crederci, non hanno smesso mai, cioè a credere in che cosa? Che il loro sistema fosse un modello per gli altri, hanno cominciato ad utilizzare il loro sistema non soltanto elettorale come qualcosa da diffondere all'estero e da utilizzare come metro per indicare agli altri la via, cioè un sistema così difettoso, pensato per esserlo affinché la politica fosse totalmente secondaria, è stato utilizzato più o meno in maniera cosciente dagli statunitensi per perseguire la loro di propaganda e quindi la loro di influenza e quando poi capita un signore come Trump che non sta al gioco, perché lo fa in maniera dolosa, non sta al gioco perché perde, 4 anni fa questo gioco gli piaceva molto e lo accettava tranquillamente, la retorica americana, la propaganda, il soft power come si dice viene meno se applicata a questo sistema elettorale discretamente improbabile e non ho detto perché sono stato molto elegante che sì il 14 dicembre è stata confermata l'elezione dei grandi elettori del presidente eletto Joe Biden, ma questa era stata decisa dai network americani, com'è usuale peraltro? Questa è la cosa strana, non c'è un ministero dell'interno che certifica, il presidente lo stabiliscono i media americani. Tu perché sei molto meno buono di me, quindi ti va di ricordarlo, ma è esattamente come dici tu, cioè dalla metà dell'ottocento i media, visto che c'è un'attesa di un mese tra il voto e la certificazione che gli stati ne fanno passa oltre un mese e nell'ottocento si poteva tollerare, oggi molto meno il risultato lo si vuole prima, dunque attraverso per carità, non in maniera arbitraria, ma dei modelli matematici e moltissimi inviati sul terreno, i principali network statunitensi determinano da soli, mettendosi anche d'accordo fra di loro, chi ha vinto le elezioni. Questo anche da noi sarebbe semplicemente impensabile, con il massimo rispetto per i media, ma credo né io né te né nessun altro affiderebbe ai media la validazione, come si dice, del voto. Per questo era importante anche l'accettazione della sconfitta, no Lucio, questa tradizione americana, ma Trump ha sfruttato questo vulnus, anzi lo diciamo anche per gli italiani appassionati di Trump che in queste settimane si sono anche sulla rete spesi in sua difesa, i suoi ricorsi sono stati respinti dalla Corte Suprema a netta maggioranza repubblicana, i grandi lettori si sono pronunciati, ora gli rimarrà soltanto quest'idea lanciata, ma senza poi grandi prove che queste elezioni gli sono state rubate, sono frutto di una frode che immagino a luce Trump utilizzerà nei prossimi mesi e prossimi anni. Come si dice, calunnia calunnia che qualcosa resta, però nella perfetta descrizione di Dario si veda molto chiaramente il nesso tra il sistema elettorale e il tono culturale e sociale degli Stati Uniti d'America. Noi siamo il paese dei mattarellum, dei porcellum, del proporzionale piuttosto che del maggioritario corretto e così via, ci consentiamo questa allegra sarabanda di sistemi elettorali più o meno deputati a tecnici abilissimi nel cambiarli secondo le circostanze, che poi naturalmente finiscono sempre per colpire quelli che vorrebbero utilizzarli. Ma quello che è interessante, io credo, fra le altre cose del sistema americano è quello che accennava prima Dario sul suo carattere più che politico, direi proprio antipolitico, cioè l'idea che gli Stati Uniti sono qualcosa che non può essere, dato che sono fra l'altro un paese missionario e una grande potenza, impedito dai calcoli di bottega, dai piccoli politicanti. Il che non vuol dire che non accada, vuol dire che non si vuole stabilire una regola legata a questo. Questo tono che l'America ha è appunto uno degli elementi della crisi, perché gli americani semplicemente non credono più, come un tempo, anzi credono molto poco alle istituzioni, c'è un 4% di americani, secondo le rivelazioni Gallup, che credono che il congresso sia una cosa seria, che non mi pare una percentuale confortante, il Presidente degli Stati Uniti mi pare al 28%, le uniche due istituzioni veramente rappresentative per la maggior parte degli americani sono le istituzioni della forza, le forze armate e la polizia e questo dà anche il senso di un paese che nella potenza, anche nella potenza militare, nello hard power come si dice, vede un elemento decisivo del suo stare al mondo. E allora Lucio, nel tuo editoriale, in questo volume di Limes, citi un libro e legge americana che è anche diventato un film di Netflix, che è andato proprio in questi giorni in programmazione e vediamo subito il trailer di questo film e poi ne parliamo. Grazie a tutti Ma cosa che hai fatto? Ma hai dovuto decidere se vuoi essere una persona o non. I've been doing real good. I just had a down month. I gott'un interview tomorrow, Mom, otherwise I... Oh, you know me. I always land on my feet. Debbie, don't look at that. Come on. Don't you look at me. And you look at me. You let her get away with this every time. I told you that I would do better. You always say that, you're lying. I always try. You gotta think about these kids. What do you think I've been thinking about since I was 18 years old, huh? Never had a life where I wasn't thinking about the kids. Do you actually wanna be dead, Mom? Or are you just too lazy to try? Oh, I tried. Plenty. You always got a reason. It's always someone else's fault. At some point, you're gonna have to take responsibility. Or someone else is gonna have to step in. Who, huh? Who? You? Hasta la vista, baby. How many times have you seen this? Oh, about a hundred. Everyone in this world is one of three kinds. Good Terminator, a bad Terminator, and neutral. You're a good Terminator. Well, it wasn't always. I had to learn. You could do. I love you. I promise that I'm gonna do better. You got a right to your own life. Don't make us your excuse, JD. Family is the only thing that means I've gotten here. You'll learn it. You'll learn it. You'll learn it. All right, Lucio. This film is a film that obviously punta agli Oscar. But the film, forse, is the film that interests us. It's a film that shows a lot of America that we're not used to. We're used to think about the minorities of American or Hispanic in the United States. Invece, the book, which is a autobiographical story, tells this guy who lives from the Midwest, who is white, but poor and in culture, who is married, in the view of the American dream, who is, who is, who is, who is, who is, who is white. The book, also from New York Times, has been evidenced a little bit in the era of Trump, which has shown the Midwest, that social media that was raised four years ago. So, why do you talk about this? In your editorial and that America shows this film? Well, premesso che comunque il film vale, se non altro, per la formidabile interpretazione di Glenn Close, di cui avete avuto qualche assaggio in questo trailer. Io penso che sia un libro da leggere, possibilmente nella versione americana non brillantemente tradotta in italiano, Hillbilly Elegy, in italiano elegy americana. Hillbilly, tradendo le mie origini romane, l'ho tradotto come coatto, ma ci siamo capiti, cioè questo giovane che appartiene a un mondo bianco proletario di origine scotch-irish, come si dice, e che appartiene a quell'America profonda che ha votato nella sua grande maggioranza Trump sia nell'elezione del 2016 sia anche più o meno nelle ultime elezioni e che si sente scavalcata proprio da questa idea che le minoranze debbano essere aiutate, che i neri debbano essere privilegiati, che vi siano delle quote per coloro che sono svantaggiati. c'è tutta questa ideologia liberal, la chiamano gli americani, de sinistra, detto da queste parti, che intende favorire appunto le minoranze rispetto al privilegio che le maggioranze avrebbero per nascita. Questa America che deve cavarsela da sola, come se la cava da solo J.D. Vance, che appunto da coatto è diventato una star della letteratura politica e ormai in generale della scena pubblica americana, non mi stupirei se un giorno si desse anche alla politica, ma forse non avrebbe le qualità necessarie. E comunque è ormai un'icona, è un'icona di questa America che soffre, questa America abituata al proletariato, ma non fino a questo punto di disgregazione sociale che avverte, squassata anche dall'uso della droga, che è un elemento centrale del racconto e anche del film, e che molto probabilmente è uno anche dei fattori più gravi nel lungo periodo della crisi della società americana. È un aspetto che spesso viene sottovalutato, ma la diffusione degli stupefacenti con le evidenti connessioni che possiamo immaginare sta minando peraltro non solo quella società, ma la coesione sociale di molti paesi occidentali o meno. La coesione anche della famiglia è messa in causa, più che altro viene distrutta dalla droga e dalla mancanza di lavoro. E poi vi sono alcune rappresentazioni veramente notevoli dell'impatto che può avere questo coatto quando per esempio è invitato a tavola in una tavolata di elite accademiche americane e lì si vede il suo imbarazzo, ma anche la sua rabbia e il suo rifiuto di quel mondo, nel quale poi peraltro si è brillantemente integrato. Sì, è una delle scene più belle quelle del film, soprattutto dal nostro punto di vista. Dario, allora, tanto chiedo anche a te del film, ma volevo mostrare queste carte a colori che si trovano sul volume di Limes che ci danno un po' l'idea delle varie divisioni americane. Tu nel tuo articolo parli di tre Americhe, sostanzialmente, con un riferimento geografico e qui lo vediamo appunto confermato, vediamo le fedi americane, vediamo questo sud battista in particolare, mentre vediamo delle coste che sono più cattoliche o laiche oppure vanno in quella direzione. Qui vediamo invece un tuo cavallo di battaglia, cioè le contee più tedesche d'America, vediamo il Midwest con questa, ne abbiamo parlato più volte, eredità americana e qui vediamo appunto il sud e tutta la storia dei monumenti confederati. Quindi, allora, raccontaci queste tre Americhe di cui appunto poi nel film abbiamo visto rappresentata una, il Midwest. Quasi noi potessimo distinguere l'America in quattro diversi tronconi con tre che sono più importanti di altri. Cioè, da un lato abbiamo le coste, quindi la costa atlantica e quella pacifica che hanno una visione del mondo molto simile, sono infatti quelle più semplici da comprendere anche a distanza, perché sono quelle che ci assomigliano di più. Sono quasi postoriche come l'Europa, vivono di economia come l'Europa, sono la parte del paese che ha beneficiato e beneficia maggiormente dell'essere impero, ma sembrano esserselo scordato. Cioè, pensano di vivere in un grande Lussemburgo o che dovrebbe essere tale e che quindi, verso il miglioramento della specie, abbandona quelle asperità, quella violenza che invece consente agli Stati Uniti di essere il numero uno del mondo, altrimenti sarebbe appunto un grande paese europeo e nulla più, per dirla con una canzone di qualche tempo fa. Queste coste sono più simili all'Europa di quanto siano simili al resto del paese, al resto degli Stati Uniti, che è composto da un Sud, che abbiamo visto in quelle carte, che invece, vale la pena ricordare che queste parti, come penso si sia già intuito, sono distinte ed intervengono in maniera diversa nella vita del paese in base al loro rapporto con l'essere impero. Il discrimine è esattamente quello. Quindi ci sono le coste che ne beneficiano, ma si sono dimenticate di appartenere. Come se fossero in quella fase per cui respingono ciò che le ha rese grandi, ma restano quelle che beneficiano maggiormente anche in termini economici dell'essere impero. Il Sud è molto orgoglioso di essere impero, e la parte militarista è il bacino che offre maggiormente alle forze armate americane, però si sente, e lo è, misconosciuto, malinterpretato, respinto dal resto del paese. Perché il Sud degli Stati Uniti rappresenta l'alterità, la differenza per eccellenza. è quella parte della nazione che ha ancora un modello culturale sconfitto, ma che mantiene come proprio, ed è la parte più britannica del paese. Visti da lontano, ne abbiamo parlato molte volte noi degli Stati Uniti, un italiano che ha una conoscenza media degli Stati Uniti pensa più o meno che in America sia un paese britannico, più o meno. In realtà la parte britannica degli Stati Uniti, che è quella del Sud, è quella che si sente meno compresa perché è quella diversa, a dire di quanto è sbagliata quell'interpretazione. E poi c'è il Midwest, a cui tu faci riferimento anche, che parte dagli Appalachi, dove è ambientata la storia che abbiamo visto, che è invece l'elemento decisivo della nazione. Perché qui vive l'elemento dominante, che è quello germanico del paese, che però ha un rapporto con l'impero schizofrenico. E non è a caso che il rapporto schizofrenico che ha il Midwest con l'impero sia oggi il rapporto schizofrenico che l'intera America con il suo essere impero. Che significa? Il Midwest ha sacrificato il suo benessere per l'impero, la sua condizione materiale. In che modo? Quando ha sacrificato la manifattura che ha sempre segnato la regione medio occidentale degli Stati Uniti, affinché il paese diventasse compratore d'ultima istanza. Quindi diventasse l'America il perno del sistema economico mondiale, acquistando merci dagli altri e spingendo fuori dal mercato le proprie industrie. Questo ha reso, dicevamo, schizofrenica, molto contraddittorio il rapporto del Midwest con l'impero, perché da un lato ne sono orgogliosi anche loro, sono la parte profonda del paese, non sono minimalisti ma sono massimalisti a differenza delle coste, però sentono il peso e la fatica di aver perso tutto per questo impero. vivono ancora di gloria, ma la parte economica li ha abbandonati. Tra l'altro a traino di queste regioni c'è anche quella dell'Ovest Terragno, che è quella meno importante perché è spopolata, che immediatamente va tra il Sud e il Midwest. Questa è l'America e questi sono i temi su cui si sono decise le elezioni. Questa che cosa serve? Oltre a ricordarci della complessità americana in regioni, serve ricordarci anche di quanto ridono molto spesso di noi gli americani quando vedono gli italiani non soltanto schierarsi per questo o per quel candidato, che è una cosa che non li fa smettere di ridere. In Italia ci sono veramente i partiti, c'è gente che tifava Biden, c'è chi ha esultato, chi ha esultato per Trump. Adesso che ci avviamo superata, sembrerebbe definitivamente un'elezione lunghissima e così improbabile come tutte le elezioni americane, adesso che ci avviamo a vedere quale sarà l'America dei prossimi anni, vale la pena ricordarci che parliamo di una collettività straniera, non paragonabile in nessuna maniera alle nostre categorie, se non con delle forzature impossibili, e che Biden è un signore americano che è americano quanto Trump, che quindi se dovesse scegliere, noi ce lo siamo già detti più volte, tra i suoi emozionati fan italiani e Trump, sceglie sempre Trump perché americano come lui. Sarà mai compreso le nostre latitudini? Ne dubito fortemente, ma vale la pena ricordarselo. E allora, abbiamo parlato tante volte delle carte di Laura Canali, adesso da questa puntata iniziamo proprio una rubrica fissa, non solo all'interno di Mappamundi, ma che avrà una sua posizione sul canale YouTube di Limes, a cui appunto vi invito sempre a iscrivervi, e quindi vediamo Laura Canali che ci racconta la copertina di questo volume. Per la nuova copertina di Limes Tempesta sull'America, ho disegnato una mappa degli Stati Uniti formata da tanti pallini bianchi. Questi pallini bianchi si muovono in modo diverso se sono intorno alle grandi città, oppure se si espandono verso l'area desertica del Nevada e dello Utah. In quella zona infatti sono molto rarefatti e non sono più agglomerati come nelle grandi città. Quando ci spostiamo invece nella parte centrale degli Stati Uniti, dove i pallini sono disposti in un ordine regolare, quasi seguendo l'idea del rettangolo, lì io ho voluto un po' rappresentare una pancia degli Stati Uniti che appunto si muove in modo un po' più regolare e compatto, e questo lo vediamo spesso quando si vota perché la zona centrale degli Stati Uniti si muove in modo diverso rispetto alle coste orientali e occidentali, non solo in quell'ambito naturalmente, comunque questo è il concetto più evidente. Inoltre gli Stati Uniti disegnati in questo modo vogliono rappresentare una certa rarefazione, una trasparenza e quindi un'incertezza sul futuro. Questa è dettata soprattutto dalla situazione attuale, ma che in realtà è da diversi anni che è imperversa per il ceto medio americano, dove i salari sono diminuiti moltissimo, ci sono due mappe in bianco e nero all'interno del volume che descrivono questa situazione economica, ed è un punto molto importante e di forza che mi ha molto stimolato sia per il disegno della copertina che per alcune mappe all'interno del volume, dare un'idea che il sogno americano, che è quello che ha tenuto fede in tutti questi anni, che ha dato profondità al futuro, all'immaginazione del ceto medio americano, ha perso aderenza e questo senso di trasparenza della copertina vuole mettere in evidenza un problema di prospettiva sociale e di profondità economica e di una perdita di aderenza sul terreno. Questo è il motivo per il quale la copertina di Limes è lavorata in modo come se fosse tutta traforata. E allora Lucio, torniamo al tuo editoriale. si basa molto su una serie di, potrei definire appunto, simori. Tu parli di una caratteristica un po' americana, un nazionalismo che è universalista, un realismo che è anche idealista. Perché l'America è così? Perché è anche un fattore di forza degli Stati Uniti? Ma è assolutamente un segno di forza. Non possiamo guardare, lo spiegava bene Dario, l'America con gli occhiali italiani. Non capiamo niente, possiamo rifare, ma non capiamo. C'è a questo proposito forse un elemento aggiuntivo quando parliamo delle questioni elettorali che andrebbe sottolineato. Cioè Trump ha cercato fino all'ultimo di convincere alcuni delegati dei vari Stati chiamati appunto al voto nel collegio elettorale a cambiare idea, insomma cercare di spostare dei voti che normalmente sono assegnati in base appunto al risultato elettorale del singolo Stato, per cui dove vince Biden ci vanno i bideniani e dove vince Trump ci vanno i trampiani, con qualche lieve eccezione. E non a caso coloro che all'ultimo momento cambiano idea, succede molto raramente, ma succede, in America vengono chiamati faithless, cioè sostanzialmente infedeli, senza fede. In Italia sarebbe impensabile, cioè immaginare che un deputato sia condannato a votare in base al mandato elettorale ricevuto dal partito in cui è stato messo come candidato nelle liste, è impensabile anche perché da noi metà dei deputati comincia la legislatura in un modo e la finisce in un altro. In America, senza bisogno di normare particolarmente questo o altri ambiti della vita politica, ci sono delle regole etiche che prevalgono e che, come dimostra questo evento, ancora in parte resistono anche alla tempesta. Più in generale, l'America non è definibile secondo i canoni politologici. I due partiti americani, i partiti si fa per dire ovviamente, cioè il democratico e il repubblicano, si intitolano alla democrazia e alla repubblica due termini che sono completamente assenti sia dalla dichiarazione di indipendenza che dalla Costituzione americana. Quindi hanno un significato che non è codificato, ma gli Stati Uniti appunto sono, o meglio come dicono loro, è perché hanno singolarizzato gli Stati Uniti dopo la vittoria del Nord nella guerra di secessione americana, un vero atto di unificazione dello Stato americano, che è qualcosa di superiore, cioè non è una democrazia, una repubblica come tante altre, ma è appunto gli Stati Uniti d'America sovraordinati rispetto al sistema degli stati diffusi nel mondo. Allora, io intanto voglio mostrare la mappa, la carta della guerra di secessione, dove sarà un caso, ma i quattro colori sono, Dario, le quattro Americhe che tu descrivevi dopo un secolo e mezzo. Abbiamo ancora un'America così divisa. Se a scorrere il sommario del volume di Limes abbiamo tanti articoli sulle divisioni in atto in America. Parliamo delle convulsioni del numero uno, soprattutto interne, e ricordo che ci sarà adesso un volume successivo sul virus e clima, il clima del virus di Limes, poi quello ancora dopo sarà sull'America vista dagli altri. Quindi questo volume si concentra sull'America interna, per così dire. Abbiamo tutte queste divisioni. Cito l'articolo di Federico Rampini sulla divisione tra colti e incolti, tra chi ha la laurea e non ha la laurea, tra ricchi e poveri, tra costa e l'interno. Tra città e campagna. Anzi, vediamo i dati elettorali. Anche nei luoghi, per esempio il Sud, dove ha vinto per esempio Trump, c'è una differenza tra città e campagna. Raccontaci tutte queste divisioni americane. Forse il modo migliore per raccontare queste divisioni americane, che sono tutte vere, come tu ricordavi, è che nessuna di queste è decisiva. Cioè prova a spiegarmi. Prima Lucio Caracciolo diceva qualcosa, nemmeno fra le righe, riguardante l'etica americana. E ancora nel suo intervento precedente ha fatto un riferimento alla nostra, invece vogliamo definirla, volatilità nelle leggi elettorali. Cioè comunque, sebbene improbabile, forse anche più che improbabile, il sistema elettorale americano è veramente impresentabile, però è rimasto tale e resta tale. L'unica cosa che è cambiata veramente è che una volta addirittura il Presidente si insediava al 4 marzo, fino al 1933 più o meno. Ma per il resto è rimasto tutto uguale. Allo stesso modo questo si applica alle differenze interne. Cioè siamo davanti ad un Paese serio, vale la pena ricordarcelo, con tutti i suoi limiti. È un Paese molto serio, anglosassone nel senso massimo, del termine. Se il senso anglosassone ha un elemento, a mio avviso, di apprezzamento, è certamente questo. Quindi anche le massime divisioni all'interno degli Stati Uniti non vanno prese troppo sul serio. Perché si tratta comunque di un Paese che vive di disciplina sociale e che quindi il giorno dopo ha altre cose a cui pensare. Che tenda a non concentrarsi troppo sugli elementi della politica, anzi quasi per niente, perché il giorno dopo quando ce l'ha va a lavorare. Oppure altre cose su cui concentrarsi. Oppure, e di questo ci concentriamo nel numero, per evitare di implodere al suo interno, va a fare, si direbbe con un francese cacofonico, casini all'estero. Anche diventando autolesionistico. Ma normalmente, come tutte le grandi potenze peraltro, porta fuori dai suoi confini il malessere che ha di dentro. Proprio per evitare che questo resti dentro i confini nazionali. È un dettamento semplicissimo della strategia. Che gli stessi apparati perseguono. È meglio andare a rincorrere fantasmi esotici, chissà in quale landa sperduta, in Medio Oriente o altrove, che vedere centinaia di migliaia di cittadini prendersi a schiaffi o a cazzotti in patria. È sempre meglio, anche se la scelta di andare all'estero poi provoca dei danni anche strategici, come è capitato nella storia americana. A questo ci segnala che qualsiasi divisione che esiste negli Stati Uniti non va presa troppo sul serio. Perché l'America è un paese violento per eccellenza, ma allo stesso tempo molto disciplinato, che tende a riconoscersi alla fine delle fini in sé e nelle sue differenze. Quindi la tempesta sull'America è qualcosa che è così importante e su questo ci siamo dedicati. Perché può avere molti più effetti su di noi che su di loro. Può sembrare paradossale, ma esattamente questo non è neppure un caso, come dicevi anche tu, che il numero successivo a questo in senso americano, ce ne sarà un altro, ma poi all'inizio di febbraio torneremo sull'America e l'America vista dagli altri. Primo nella consapevolezza che di questo malessere interno saranno soprattutto gli altri a doverci fare i conti in giro per il pianeta e meno, per quanto possa sembrare, ripeto, paradossale, gli americani interni. Allora Lucio, io intanto segnalo gli articoli di George Friedman su volume, come al solito, illuminanti. E proprio su questo, torniamo allora sulla forza unificante americana, il sogno americano che è anche oggetto del libro e del film e legge americana che abbiamo visto prima, ma anche la tecnocrazia, gli apparati, ma anche le forze armate, ma anche l'istruzione, le università. Qual è lo stato di salute di questi fattori unificanti dell'America? Non buono, in alcuni casi anche pessimo, ed è questo anche uno dei motivi per cui credo sia importante studiare questa tempesta americana. Il titolo, come si può immaginare e come i lettori di Limes sanno, deriva da un libro piuttosto profetico del nostro amico George Friedman, il capo di Geopolitical Futures, con cui abbiamo il piacere di collaborare molto spesso. Un libro profetico perché uscito nel febbraio di quest'anno, anticipava di poche settimane poi la tempesta, il casino successivo, scatenato anche dalla crisi del Covid-19 che purtroppo non accenna ad essere domata. Credo che sia importante leggere questa crisi americana anche però a livello dell'élite, anzi francamente credo che alla fine delle fini il senso complessivo, anche il senso imperiale di questa crisi, se cioè sarà una crisi che in qualche modo toccherà anche l'impero americano nel suo complesso e non semplicemente la nazione al suo interno, dipenderà molto da come si muoveranno le élite. Quando dico élite non penso tanto alle élite politiche quanto al corpo tecnocratico, burocratico dello Stato e non ultimo anche perché molto spesso coincide con quello accademico, universitario. E qui la situazione non pare particolarmente brillante, cioè l'esperto americano è sempre più chiuso nella sua specialità, ha sempre maggiore difficoltà a pensare largo, insomma umanisti nel senso rinascimentale se ne vedono pochi, io qualcuno ho avuto il privilegio di conoscerlo ma alcuni decenni fa negli Stati Uniti, oggi vedendo quelli che hanno preso il loro posto per quello che riesco, adesso sono un paio d'anni che non vado in America, ho il sentimento di un qualche declino, declino culturale intendo, declino culturale molto dovuto anche agli specialismi, cioè alla incapacità di fondere insieme diversi saperi e quindi poi sottoporre al decisore politico cosiddetto tale delle soluzioni che sono basate appunto su un sapere tecnico di cui il politico non capirà un tubo e che soprattutto avrà il problema di non tenere dentro l'equazione tutti i diversi fattori che la politica invece dovrebbe considerare. E qui c'è l'aspetto critico dell'antipolitica o dell'impolitica americana, cioè non è semplicemente una scelta etica, può diventare una scelta culturale che ti estranea dal rapporto con il mondo e ti rinchiude in un ambito leggermente paranoico che può essere nocivo sia all'impero esterno sia anche a quello interno perché anche gli Stati Uniti in quanto tali senza guardare alle loro proiezioni esterne peraltro mai delimitate sono nati come impero espanso dalla costa atlantica verso l'interno. Allora, torneremo su questi argomenti, in particolare Lucio anche su quello a cui hai fatto riferimento, cioè questi americani umanisti che hai conosciuto. Vuoi intanto dare qualche nome o vogliamo lasciare un po' di mistero? Lasciamo il mistero, è più diverso. Lasciamo il mistero, anche perché mi sa che ci dovremmo dedicare una puntata a questo. Dario Fabri, siamo in conclusione, non riusciamo a parlare dell'elemento ispanico, dei latinos che è ben trattato sulla rivista, però Dario Fabri avrà modo di sfogarsi perché abbiamo da venerdì tre puntate del suo approfondimento sul canale YouTube di Limes proprio dedicate agli Stati Uniti, in particolare alla politica estera americana. Cosa dobbiamo aspettarci da Biden nei prossimi anni? Possibilmente valutandolo in maniera razionale, senza tifo. Noi tifiamo noi italiani per chiunque. In Italia c'è chi apprezza i leader inglesi, da Churchill alla Thatcher. Non è più possibile, bastava all'epoca, interrogarli su quali idee avessero degli italiani, ma hanno anche fan italiani. Beati loro, noi proveremo a non fare i fan di nessuno e con i nostri limiti a provare a stabilire quale può essere o quale sarà. la politica estera degli Stati Uniti nei prossimi 3-4 anni. Su tre scacchiere, quella asiatica con la Cina, quella europea e quella mediorientale. Quindi l'appuntamento è sempre sul canale YouTube di Limes dove vi invito a iscrivervi. Grazie a Lucio Caracciolo e a Dario Fabri. Grazie a voi. Grazie a tutti.